Oggi 5 dicembre, Salvatore Colletta, scomparso da Casteldaccio il 31 marzo del 92, compie 42 anni. La sorella Maria Grazia ha lanciato l'ennesimo appello in una lettera pubblica, scrive che sarebbe stata felice di conoscerlo e di potergli fare gli auguri di compleanno di presenza. E da quel maledetto 31 marzo del 92 che di te non si hanno notizie, io penso, scrive che qualcuno sappia dove tu ti trovi, cosa ti sia accaduto, nel bene o nel male. Oggi vorrei dire a questo qualcuno di mettersi nei miei panni, nei panni della mia famiglia e capire quanto per noi sia doloroso accettare l'assenza di un figlio, un fratello, uno zio, non solo oggi ma da ben 26 anni. In questi anni non è mai venuta fuori la verità per colpa dell'omertà e del silenzio di chi sa e non parla. E ancora, aggiunge, la mamma, papà e tutti i tuoi fratelli ti aspettano a braccia aperte, noi non ci stanchiamo di lottare per te, Salvatore, e soprattutto mamma che non si è mai fermata un solo istante durante tutti questi anni. Io voglio che lei sia felice affinché lo sia necessario alla tua presenza. Sei il primo dei sette figli, ti ha aspettato e desiderato tantissimo e ti vuole un bene che nemmeno immagini. La tua scomparsa ha distrutto la felicità di un'intera famiglia. Salvatore Collette è scomparso insieme a Mariano Farina. Avevano rispettivamente 15 e 12 anni. La mattina del 31 marzo del 92 i ragazzi avevano marinato la scuola e si erano fatti accompagnare in scooter da un'amica in spiaggia dove volevano fare un picnic. Comprano bibite e panini, abdebitando l'acquisto sul conto della famiglia Farina e si fanno lasciare davanti alle ville sul mare. Invece di tornare indietro con l'amico che li aveva accompagnati, lo salutano dicendo di voler restare ancora un po' per conto loro. Vogliamo andare in giro e vedere com'è la vita, dicono. Sarà l'ultima volta che verranno visti.